Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Super Easy Italian. Oggi siamo a Milano e siamo a casa. Chiediamo alla gente cosa sta facendo. Andiamo! Ciao! Ciao! Cosa stai facendo? Sto facendo il caffè. Perché? Perché ho sonno. Ciao! Ciao! Cosa stai facendo? Sto lavorando al computer. E come va? Bene, anche se ho bisogno di concentrarmi. Scusa, buon lavoro. Grazie. Cosa stai facendo? Sto leggendo un libro. Un libro che libro si chiama Io non ho paura di Niccolò Amaniti. Bene, e come va? Bene, anche se devo dire ho un po' freddo. Meno male che hai la copertina. Eh, guarda. Ciao! Come stai? Bene, tu? Bene, grazie. Cosa stai facendo? Una passeggiata. E dopo? Dopo cucino, perché ho fame. Buon appetito allora. Grazie. Grazie a te. Ciao! Scusi signore, stiamo creando un corso di italiano per stranieri. Ci potrebbe dare una mano due minuti? Ma guarda, molto volentieri, però ho da fare. Ah, scusi. Scusi. Arrivederci. Arrivederci. Scusa? Scusa? Un attimo, un attimo. Sì. Sì, ciao. Ciao. Cosa stai facendo? Gioco con le lego. È interessante. E quanti anni hai? Ho trentasette anni. Ciao. Ciao. Come va il lavoro? Bene. Ho trovato un canale YouTube per imparare l'italiano e, a quanto pare, puoi iscriverti al loro Patreon, EasyItalian, e ricevere un sacco di materiali. Per esempio? Vocabolario, trascrizioni, file audio. E cosa puoi fare con queste cose? Ma, per esempio, con i file audio posso portarli con me, ascoltarli in autobus o mentre cammino o anche mentre cucino. Con la trascrizione, invece, posso studiare con calma e imparare nuove parole e nuove regole di grammatica. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Cosa stai facendo? Sto bevendo una birra. Buona. Molto. E perché? Ho sete. Bene. Sì. Sì. Hai anche caldo, per caso? No. No, caldo no. Cioè, forse dopo, no. Comunque no. Ah. Sto cercando qualcuno che abbia caldo. Ah. Ah, forse sai che c'è un tipo che ha caldo. Sì? Sì, devi cercare o in camera o in balcone. Ah, ok. Ok. E cosa aveva addosso? Mi pare una maglietta rossa. No. Non ce l'ho. Un cappello. Sì? Un cappello. Ok. Eh, sì. Ma io conosco questo tipo. Sì? Aveva anche fame, eh? Sì, sì. Ha fame. Ha fame, ha caldo. Se lo trovi, sì, sicuramente c'ha... Ok. Perfetto. Adesso vado a cercarlo. Ok. Grazie. Ciao. Ah, ui, ciao. Eh, ciao di nuovo. Ciao. Come stai? Beh, fa caldo. Ho caldo. Eh, sì. Sì. Fa caldo, sì. Sai, dopo aver mangiato, poi, ancora più caldo. Eh, sì. Sì. Prima avevi fame e adesso... Sì, prima avevo fame e adesso ho caldo, cioè... Una giornata così. Ciao, eh. Ciao. 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 Oh, ciao. Cosa stai facendo? Sto cercando un libro. Ah, e perché? Perché ho voglia di leggere. Buona lettura, allora. Grazie. Ciao. Ciao. Questo. In italiano ci sono tante frasi con la parola avere. Per esempio, non si dice sono 37 anni. Ma ho 37 anni. E si dice ho caldo e ho freddo. Literalmente, I have hot or I have cold. Sì, sarebbe diverso dire io sono caldo o sono freddo perché parla di caratteristiche delle persone. Sì, giusto. Quindi sono freddo, sono una persona fredda. Sì, con un carattere chiuso. Poi bisogna sempre evitare di dire sono caldo perché ha un altro significato molto rischioso. E in italiano hai fame e hai sete. Poi ci sono tante altre espressioni come ho voglia, ho bisogno. Adesso vediamo la coniugazione della parola avere. In italiano non si pronuncia mai la H, quindi io ho. Tu hai, loro hanno. E per finire, ovviamente si possono anche usare queste espressioni nel passato. Di solito bisogna usare un tempo verbale che si chiama l'imperfetto che si usa per un'azione che è durata nel tempo. Avevo, avevi, aveva. Avevamo, avevate, avevano. Abbiamo incontrato un sacco di gente, gente che aveva fame, gente che aveva voglia di leggere, gente che aveva caldo, gente che aveva sete. E voi? Avete freddo? Avete caldo? Avete fame? Scrivete un commento con una delle frasi della lezione di oggi. E se vi interessa, c'è il contrario. C'è un'occasione in inglese in cui usiamo avere, ma in italiano non si può usare. Se volete scoprire di più, potete ascoltare il nostro podcast. Il link è nella descrizione. Grazie per aver guardato questo episodio. Ciao! Ciao!